Terra, primo Green Forum della transizione energetica, il titolo della prima edizione dell'evento nazionale che si svolgerà a Pescara dal 25 al 27 maggio prossimi. La tre giorni è promossa dalle regioni Abruzzo, in particolare dall'assessorato all'energia e il comune di Pescara e la fondazione Pescara Abruzzo. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sede del Consiglio regionale di Pescara a illustrare le caratteristiche del forum, il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore regionale all'energia Nicola Campitelli. Allora, questa mattina siamo qui a Pescara proprio per presentare questa manifestazione, Terra, che è il primo forum sulla transizione energetica in Abruzzo. Terra deriva dal nome Terra, quindi fa intuire il legame che noi esseri viventi abbiamo con la nostra Terra, ma è una declinazione al futuro per essere anche un po' il monito rispetto all'ambiente in cui noi vivremo da qui nei prossimi anni. L'Abruzzo sarà una vetrina non solo a livello nazionale, ma addirittura a livello internazionale, tratteremo argomenti assolutamente contemporanei come la transizione energetica, la sostenibilità ambientale, la tutela ambientale, l'impatto socio-economico che questa transizione energetica potrebbe comportare sul mondo produttivo con i massimi esperti del settore. Quindi partecipare a Terra significa partecipare in modo attivo al futuro del nostro pianeta. Il nostro obiettivo qual è? È che attraverso questo evento, che comunque è un'attività culturale di formazione, che sia poi da stimolo per tutti quanti noi per essere poi, avere quel ruolo attivo. Insieme a tutte le attività che noi come Regione Abruzzo stiamo portando avanti in modo operativo sulle comunità energetiche, sull'idrogeno, sull'economia circolare per intendere i rifiuti non più come un pericolo ma in effetti come una risorsa per i nostri cittadini, messi insieme tutte queste attività operative e culturali vogliamo raggiungere un obiettivo nobile, quello di mettere a disposizione dei cittadini abruzzesi una energia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma soprattutto oggi anche dal punto di vista economico.